Un saluto e ben trovati alla voce delle istituzioni, ospite in studio quest'oggi Paolo Simonetti, Sindaco di Zopè di Cadore, che saluto e ringrazio per la sua presenza. Grazie a voi dell'invito. L'ultima volta, è stato parecchi mesi fa, ero venuto io nel suo ufficio, oggi è venuto lei a trovarci. Mi ricordo che c'era questa cooperativa che stava nascendo, una cooperativa di comunità. Ci vuole parlare un po' di come si sta evolvendo la situazione in quel campo? Sì, Zopè, come sapete, è un comune molto piccolo, 196-197 residenti, con una trentina di persone iscritte all'Aire, e quindi poco più di 200 persone. È un comune ed è essenziale avere un minimo di infrastrutture, diciamo, per i beni di prima necessità o luoghi di ritrovo per una popolazione che comunque è distante da una decina di chilometri da Forno di Zodo, cioè dal primo paese utile per potersi ritrovare, eccetera. Nel corso, all'inizio del 2022, anzi del 2021, ci siamo posti questo problema. Molti in paese mi chiedevano, mi fermavano, perché avevano sentito che nel nostro programma c'era la voglia di riaprire almeno il negozio di genere alimentare, che era stato chiuso da circa tre anni. Ed è, soprattutto in un paese di molte persone anziane, questa è una necessità essenziale. Abbiamo provato a stimolare dei privati perché aprissero questo negozio, ma abbiamo capito che non c'era la volontà. Allora ci siamo, come dire, ci siamo guardati attorno. Abbiamo visto nascere, negli anni precedenti, delle cooperative, in questo caso sono delle cooperative sociali, in Comelico. Una delle più interessanti è la cooperativa Alberi di Mango a Santo Stefano e a Costa. Siamo andati a trovarlo e siamo rimasti molto colpiti dall'entusiasmo con cui avevano fondato questa cooperativa e dai risultati sociali, in questo caso, non tanto economici, di quale capacità di vendita, ma il fatto di aver ridato a un paese un punto, un servizio e un punto di ritrovo, che è essenziale in questi posti dove lo spopolamento e la perdita dei servizi che crea altro spopolamento genera. Quindi sta funzionando anche a Zopè questa cooperativa? Sì, abbiamo appunto spinto su questa cosa qui, di riuscire a convincere le persone a fondare una cooperativa, una cooperativa per cui diventa anche un modo per autogestire, per prendere decisioni proprie su quello che deve fare, non fare, come deve svilupparsi. Devo dire che io non ci credevo molto, ma ho visto che c'è stata una partecipazione notevole alle prime riunioni e siamo riusciti in poco tempo a mettere in piedi una cooperativa, andare al notaio, fondarla, raccogliere le quote sociali. Abbiamo raccolto anche dei finanziamenti, come dire, a fondo perduto per la nostra cooperativa e quindi abbiamo messo già da parte un piccolo capitale iniziale che ci ha fatto capire che quella era la strada. È una popolazione di 196 abitanti con oltre 130 soci attuali, quindi praticamente è un intero paese che si è autocostituito in cooperativa. Paese piccolo, si diceva, c'è bisogno di collaborare con le amministrazioni e con i territori, insomma con termini. Nascono dunque le IPA, mi diceva anche fuori onda, mi spiega, puoi spiegare un po' cosa sono? Le IPA sono le intese programmatiche d'aria, sì, sono già, nel nostro caso Zopè in questo momento, fino a questo momento ha fatto parte dell'IPA a Gordina, che comprende anche tutto il cadore, la Gordino è tutto il cadore, chiaramente è un territorio ampio con problemi anche diversi. Allora, tra l'altro negli ultimi tempi l'IPA a Gordina si era un po' seduta, cioè non era produttiva di progetti, c'era anche abbastanza scontento, insomma, dalla parte cadorina. La Magnifica Comunità ha stimolato, attraverso convegni, riunioni con i sindaci, la possibilità di costituire un'IPA propria, cioè tutti i comuni cadorini. La Regione ha accettato questa nuova IPA, quindi ridimensionando l'area di Gordina e dando a noi, diciamo, all'IPA cadorina una sua autonomia progettuale. Si tratta di produrre progetti per il futuro del territorio, di cui la Regione tiene conto nel caso di finanziamenti specifici su questi progetti. E' un problema proprio di progettualità. La Magnifica, tra l'altro, nel fine 2020-2022, aveva fatto un grosso lavoro di costituzione di tavoli su cui produrre dei progetti nel Green New Deal 2030, e a cui hanno partecipato giovani, professionisti, entità private, pubbliche, portando le progettualità sui diversi temi, l'inclusività, il turismo, il lavoro, insomma una visione del nostro territorio futuro che c'è e quindi va proposta. L'IPA, appunto, è un luogo in cui si può produrre e proporre la progettualità futura. E mi sembra di capire che nel caso di Zopè di Cadore l'ambito più di interesse, diciamo, sia al turismo sia alla cultura. Sì, beh, c'è da chiedersi che cosa può essere il futuro di Zopè. Allora, noi lo spopolamento, che è un problema generale, non è solo di Zopè, evidentemente, è di tutta la provincia di Belluno. Non lo possiamo risolvere da soli, è impensabile. Quindi ci vuole un progetto, bisogna stare all'interno di un progetto generale. Un paese, una comunità esiste in un luogo se ci lavora in quel luogo. È allora che si prende cura di se stessa e del territorio. Allora, qual è il lavoro possibile per Zopè? Io credo che sia il turismo, sia il turismo di qualità. Zopè è un paese unico. Siamo ai piedi del pelmo. È un paese unico non solo dal punto di vista ambientale. Non è solo ambiente, boschi, montagne bellissime, ma è anche una tradizione, una cultura. È un paese che è, come dire, costruito con un'architettura tipica. Questo, chi viene a Zopè, che sono ancora troppo pochi, i turisti che ci fengono, lo apprezzano tantissimo. Tutti rimangono incantati. Allora, questo è il nostro prodotto. Bisogna riprendersi cura del nostro paese e vendere questo prodotto. Vendere vuol dire che nascono dei servizi che servono ad accogliere dei turisti che vogliono un'esperienza unica. Insomma, è abbastanza semplice, è una cosa di cui se ne parla anche in altri ambiti e noi dobbiamo riuscire ad applicarla. Questo è, come dire, il sogno nel cassetto, se vogliamo semplificare. Il futuro ha in mano ai giovani, i giovani di Zopè come sono, come li vede? Allora, i giovani di Zopè sono interessati. Io ho accettato di fare il sindaco sulla proposta di una lista di giovani, massimo trentenni, che hanno proposto loro un programma. Non tutto è realizzabile, evidentemente qualche cosa va messo a posto, però vuol dire che si sono posti un problema. Allora, i giovani attualmente quasi tutti stanno studiando, o appena finito di studiare, e lavorano fuori. Questo è l'altro aspetto, diciamo, della faccia del problema. Devono abbandonare il paese per trovare lavoro fuori. Quindi, però, sono interessati al fatto che ci si possa in qualche maniera restare. Loro facevano proposte anche sullo smart working, ma, insomma, non è una soluzione, credo, perché lo smart working lo può fare qualche professionista, così, che pensa di poter lavorare in un luogo a meno, ma non è questa la soluzione del problema. Bisogna portare del lavoro e dei servizi all'interno. Vedo piccole iniziative di qualcuno che sta per lasciare la Germania, che ha ancora voglia di fare delle cose, che stanno, essendo dei discorsi, che non sono ancora discorsi concreti, per investire nel turismo locale. C'è chi pensa, per esempio, a diventare un esperto di biciclette mountain bike. il zoppere estate è assaltato da chi ha le biciclette, cioè di offrire i servizi, oppure nel diventare guida per, come si chiama, per i trekking, anche quello può essere uno sviluppo. Quindi sento dei discorsi un po' diversi rispetto al passato. Sono piccole cose, piccole fiammelle, ma probabilmente quella è la strada. Venendo a un discorso un po' meno romantico, anche perché ha parlato di fiammella, purtroppo mi è venuto in mente il tetto del municipio, che facendo un collegamento... Sì, questo è un po'... Sì, abbiamo avuto un incendio nel 2019, poco prima di Vaia, e si è incendiato il tetto del municipio. Sembrava una cosa semplice alla fine, di rimettere a posto. Siamo stati fortunati perché il tetto del municipio, restaurato una decina di anni fa, 15 anni fa, 2005-2006, in cui abbiamo recuperato una bellissima sala nel sottotetto, la sovrintendenza ha preteso che fosse rifatto in scandole. per risparmiare allora si è lasciato il vecchio tetto di lamiera sotto, e questo ha salvato il municipio, perché il cammino malfunzionante ha incendiato le scandole sopra e il vecchio tetto in lamiera rimasto sotto ha impedito che prendesse fuoco la struttura interna. Il danno grosso è stato fatto naturalmente con l'arrivo dei pompieri, rompendo l'acqua, eccetera. Sembrava una cosa semplice, ma non siamo riusciti a... Abbiamo avuto due appalti andati vuoti, praticamente, all'interno della situazione che si è creata poi con il 110%, l'aumento dei costi e il fatto che le ditte, le posso anche capire, andavano dove venivano meglio pagate. Adesso speriamo, la primavera prossima sono quasi sicuro, abbiamo un agreement, come si dice, con una ditta di Belluno che ci ha strapromesso che verrà a farci questo lavoro. Risentite dell'aumento dei costi delle materie prime e anche dell'energia, voi come amministrazione? Ma, dunque, sì, si sente l'aumento dell'energia. Abbiamo, come dire, una necessità energetica che non è così elevata. Un po' è l'illuminazione pubblica, quello decisamente aumentato, ma siamo riusciti, come dire, a sopperire... Dobbiamo tenere conto che abbiamo una centralina elettrica che produce energia, che viene messa in rete e quindi c'è un ristorno economico. Quest'anno, devo dire, che con la siccità anche quella ha prodotto la metà di quello che normalmente produce. Quindi ci sono alcuni piccoli problemi. Adesso sembra che la situazione, mi pare, stia normalizzandosi, pur con costi alti, ma sia un po' piatta. Non abbiamo, certo, le grosse attrezzature, sto pensando, non so, agli stadi del ghiaccio, Alleghe, Pieve di Cadone, in cui sono dovuti intervenire pesantemente anche dei privati, penso a Pieve, che hanno finanziato il fatto che si potesse riaprire. Quindi, come dire, siamo riusciti a scavalcare l'emergenza in questo modo. Su questo siamo in chiusura, abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Io ringrazio ancora il sindaco Paolo Simonetti, sindaco di Zoppè di Cadore, per la sua presenza e per i suoi racconti. Grazie a voi per averci seguito. Arrivederci. Ringrazio. Ringrazio.